Questo video riguarda i migliori tre planetarie economiche sotto i 100 euro. Il vincitore della qualità nel nostro planetarie economiche sotto i 100 euro va al Klarstein Bella Pico 2G. L'impastatrice a spirale planetaria Klarstein Bella Pico 2G è la logica evoluzione del suo predecessore, dalle note dimensioni compatte che le consentono di adattarsi anche a superfici di lavoro più piccole in combinazione alla ciotola in acciaio da 5L. Il collaudato sistema di miscelazione planetario Klarstein assicura ottimi risultati. Le fruste dell'impastatrice pizza infatti ruotano intorno al proprio asse e contemporaneamente lungo il bordo della ciotola, assicurando così una miscelazione perfetta. Piccola ma grande. La planetaria professionale Klarstein Bella Pico 2G offre un nuovo livello di potenza tra le impastatrici compatte, conservando però la consueta alta qualità, semplicità d'uso e design salvaspazio. I suoi 6 livelli di velocità e la funzione Pulse, la rendono perfettamente adatta a tutte le esigenze delle cucine moderne dalla semplice preparazione della panna da montare al più elaborato impasto del pane. La consegna della planetaria in acciaio inox include ganci per la pasta, ganci per mescolare una frusta. In questo modo si ha sempre l'accessorio giusto. Ganci per pasta dura per la pasta del pane, ganci per alimenti a media densità come torte, e fruste per la panna o il burro. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Bakaji impastatrice. Crea torte, pane, dolci e lievitati direttamente a casa tua con la nuovissima impastatrice planetaria di Bakaji. L'è l'amico perfetto della tua cucina. Sicuro, efficiente e completo sono le caratteristiche che rendono questo prodotto davvero unico e indispensabile. La nuova impastatrice planetaria Bakaji è fornita di un'incredibile potenza di ben 1000 W, doppia, regolabile tramite l'apposita manopola latera in 6 livelli di velocità da regolare in base alla preparazione che si sta effettuando e all'accessorio impastatore in uso. La panetaria Bakaji è fornita di un'ampia ciotola in acciaio inox da 5L che consente di realizzare impasti in grosse quantità in un unico utilizzo risparmiando tempo ed energia. Inoltre il pratico coperchio trasparente oltre a permettere di visualizzare lo stato dell'impasto. Ogni accessorio è realizzato interamente in acciaio di altissima qualità materiale molto resistente e duraturo ideale per l'utilizzo in cucina. Fornita infine di blocco di sicurezza per evitare aperture accidentali del braccio e di piedini in gomma antiscivolo, ci attutiscono le vibrazioni della planetaria per una maggiore stabilità in fase di utilizzo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel planetarie economiche sotto i 100 euro è il Tristar robot da cucina. Il robot da cucina Tristar ha 6 impostazioni di velocità. Puoi regolare la velocità dell'impastatrice in base alla ricetta e miscelare gli ingredienti rapidamente, preparare la pastella o un impasto liscio. Questo robot da cucina multifunzione può battere, impastare e miscelare, grazie ai tre ganci impastatori. La macchina da cucina Tristar è costruita per durare. Il corpo in plastica di alta qualità è facile da pulire e la ciotola planetaria in acciaio inossidabile. Inoltre, gli ingranaggi sono realizzati in metallo per garantire una miscelazione potente. I piedini antiscivolo tengono fermo il mixer sul piano. Grazie alla capiente ciotola da 3,5 litri, questo robot da cucina è ideale per tutti gli appassionati di cucina. Durante la miscelazione capita spesso di spargere intorno farina o altri ingredienti. Questo sarà non è più un problema grazie al paraspruzzi trasparente. La frusta è ideale per montare la panna o preparare piatti gustosi. Per impasti salati puoi utilizzare il gancio. La frusta piatta è invece perfetta per i dolci. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.